il tg events into the world signori all'infinito godiamoci il servizio appena arrivato una sorpresa ciao luca guarda dove mi trovo oggi non sono in olanda come tu potresti pensare ma sono alle porte di torino esattamente a grugliasco qui ci sarà per circa un mese un progetto incredibile a nome di tulipani italiani verranno piantati migliaia di bulbi per rendere insomma questo territorio vicino vicinissimo all'Olanda ma non solo noi abbiamo un campo di tulipani una moto grande che sono 20.000 metri quadri 500.000 tulipani i vistatori vengono per fare le foto e per raccogliere i tulipani fai da te quindi il progetto è voi avete piantato tutti questi bulbi e poi una volta cresciuti ognuno insomma del pubblico qualcuno che vuole venire viene li raccoglie ovviamente li porta a casa questo per diffondere un po' il messaggio insomma della natura del fai da te no? quanto durerà questo evento? fino a fino a fino a aprile più o meno tra 25 e 30 aprile senti spiegaci il tulipano che fiore è? è un fiore semplice ha quasi tutti i colori ha anche differente forme fiore abbastanza economico le persone possono raccogliere i fiori e toglieremo il bulbo con incartamento e facciamo come facciamo in nord Europa che mettiamo i fiori nel vaso e nell'acqua e questo è il nostro obiettivo molto bene allora dall'Olanda torinese e dal nostro ovviamente presidente olandese un saluto ciao Luca